Le bollette della luce elettrica non avranno pesato più di tanto sul bilancio familiare, visto che, quando i carabinieri della stazione di Akate sono andati per effettuare mirati controlli, hanno trovato un allaccio abusivo che collegava l'abitazione con la rete elettrica pubblica, mediante un cavo di oltre 30 metri. E' scattato così l'arresto per il pregiudicato 33enne tunisino. Tutto è accaduto ieri pomeriggio, quando i militari hanno effettuato una serie di verifiche e durante la perquisizione nell'abitazione del tunisino hanno accertato la presenza di un cavo che andava a connettere il quadro elettrico della dimora con quello dell'illuminazione pubblica. Al termine delle formalità di rito l'hanno sottoposto gli arresti domiciliari e a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il d'Orto Puleio, dinanzi al quale dovrà rispondere del reato di furto di energia elettrica continuato. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dell'arma per verificare l'entità dell'energia elettrica sottratta, anche in relazione al periodo di tempo durante il quale il reato è stato perpetrato.